I figli che Lui ci adora I figli che Lui ci adora Così benediciamo questo dono prezioso Noi lo dedichiamo a te Per fare la tua volontà A me il pace di Cristo, mamme, che Dio vi benedica Siete in collegamento con Podcast Antioca Con il programma L'angolo della mamma Parla con voi la sorella Deborah Muglie del ministro Longoenzo Qua della chiesa di Dio di Torino Nonché anche co-pastore del nostro pastore Petro Gutmann Sono insieme oggi con la nostra sorella Maria Muglie del nostro pastore Petro Gutmann Pace di Cristo, sorella Pace di Cristo, sorella Deborah Gloria a Dio Che possiamo insieme una volta in più Condividere questo bellissimo, importante programma Alle nostre belle giovane mamme Della chiesa del Signore qui a Torino E anche a Milano e il resto dell'Italia e del mondo Oggi non è via Skype Ma siamo faccia a faccia La sorella e io In un luogo pubblico Gloria a Dio I fratelli hanno sentito Chiamarci e invitarci A condividere un po' insieme Questa sera Abbiamo approfittato il tempo Per poter fare questo programma insieme Grazie sorella Deborah Una volta in più Ammene Per invitarmi Ammene Gloria a Dio Quindi Essendo in un luogo pubblico Ovviamente ascolterete un po' di movimento Ma gloria a sé in nome del Signore Che bello poter Tra virgolette Sfruttare Il tempo passato insieme Parlando della parola del Signore Parlando con due mamme Parlando con la parola Prima di iniziare La sorella Maria Una potente preghiera nel nome di Gesù Affinché il Signore possa guidare ogni cosa Ammene Ammene Grazie Signore Gesù Per questa opportunità Signore che Tu ci doni Ammene Di poter usare la nostra bocca Padre Per poter parlare Signore al Tuo popolo Signore Per poter Signore edificare la Tua Chiesa Signore Edificarci l'uni agli altri Signore Con la Tua parola Padre Signore Signore Sii Tu in mezzo alla sorella Edir In questo momento Signore Per questo programma Signore Sii Tu Signore Parlando ad ogni cuore Signore Che ascolterà Signore Santo Questo programma Padre Santo Sia in questo momento Siete in collegamento Siete in collegamento con Podcast Antioga con l'angolo della mamma Stiamo registrando questo programma Io la sorella Deborah con la sorella Maria Che andrà in onda Venerdì 2 Dicembre del 2016 A me Questa puntata Gloria a Dio È il proseguimento È la seconda parte Chiamiamola così Di una puntata Già iniziata La scorsa volta Per chi non l'ha fatto Vi invitiamo Ad ascoltarla L'episodio numero 11 Intitolata Il Buon Esempio Continuiamo su questo tema Cari mamme Continuiamo veramente Perseverando in questo Per il bene di tutte Per il bene delle nostre case Per il bene delle nostre vite Per il bene dei nostri figli E per il bene della Chiesa Soprattutto Dell'Assemblea di Dio A me Della Chiesa Quindi vi invito A riascoltare La puntata precedente Per chi non l'ha fatto E oggi Volevamo continuare In questo tema La volta scorsa Abbiamo parlato Come il nostro Esempio Può influire Nella vita Dei nostri figli L'esempio Veramente pratico Di Timotio Ricevuto Dalla sua mamma Loide Dalla nonna Eunice Quello che parla In secondo Timotio Capitolo 3 Ancora Veramente Perseverando Dell'insegnamento La scrittura Ci dice Che insegnando Al bambino La condotta Che deve tenere Fin dalla sua Fanciullezza Anche quando sarà vecchio Non se ne allontanerà Il modo in cui Viviamo La nostra fede Nel bene Nel male Sotto gli occhi Dei nostri figli Se siamo persone Che in casa Magari Fanno maledicenza Magari davanti ai figli Usiamo un certo linguaggio Incoerenti Incoerenti Ovviamente Con la nostra fede Loro Andranno a vedere Loro Vedono Tutto quello Di come noi Ci muoviamo Di quello che Diciamo Ed è importante Perché Pregavo L'altro giorno Che la nostra Influenza Positiva Ovviamente La nostra Influenza Della fede Come deve Essere Incisiva Per loro A maggior ragione Di più Di quella che Possono ricevere Dal mondo A maggior di più Di quello che Possono ricevere A scuola Quindi Parlavo con mio marito L'altra sera Dicevo Noi dobbiamo Pregare Affinché la nostra Influenza Affinché la nostra Fede Il nostro Camminare Il nostro Esempio Sia Più impattante Sia più evidente Per loro Più incisivo Rispetto a un esempio Che possono vedere Nel mondo A scuola O da qualsiasi Altra parte Quindi Immaginate Quanto deve essere Impattante Il nostro esempio Il nostro Modo Di vivere Parlerà ai nostri figli Molto più forte Delle nostre parole Anche Quindi è giusto Dare un buon insegnamento Verbale Con la parola Però Ovviamente Se non lo applichiamo Prima noi Con il nostro modo E col nostro vivere Come loro Lo andranno a fare Glorie a Dio E un verso Che mi ha impattato E che abbiamo finito Così La volta scorsa La scorsa puntata È quella Della generazione Di Giosuè Quella a cui Mosè Si rivolse Nel libro Di Deuteronomio Capitolo 4 Verso 9 Deuteronomio Capitolo 6 Versetto 6 e 7 Quello dell'inculcamento Di come questa Generazione di Giosuè Fallì Miseramente Nel trasmettere A propri figli Il timore di Dio Leggiamo infatti Anche Tutta quella generazione Fu riunita Ai suoi padri Poi dopo di quella Vi fu un'altra generazione Che non conosceva Il Signore Nelle opere Che egli aveva compiuto In favore di Israele I figli di Israele Fecero ciò che è male Agli occhi del Signore E servirono Gli idoli di Sal Abbandonarono Il Signore Il Dio dei loro padri Che li aveva fatti Uscire Dal paese D'Egitto Questo si trova in Giudici Capitolo 2 Versetto 10 e 12 Il grande condottiero Giosuè Aveva portato A compimento Ciò che Mosè Aveva cominciato Portando il popolo Di Israele Nella terra di Cana La terra promessa Ad Abramo La generazione di Giosuè Aveva sperimentato Grandi vittori Avevano visto Da vicino L'opera Di Dio E verrebbe da pensare Che essi Non avrebbero mai Trasmesso Mai smesso Di parlarne A propri figli La prima cosa che si pensa Dice come Il popolo di Israele Ha visto la mano di Dio In tante cose Ha visto Possibile che non ne parlavano A loro figli Eppure essi Non riuscirono A trasmettere Alla generazione Seguente Le opere Che Dio Aveva compiuto In favore di Israele Infatti I loro figli Non conoscevano Il Signore E cominciavano A servire Gli idoli locali Strano Vero? Ma nel giudicare Quella generazione Dicevamo L'altra volta Stiamo attenti Perché potremmo Trovarci A giudicare Noi stessi Quella generazione Di Israeliti Dopo essersi Insediata In Canaan Ha semplicemente Costruito Le proprie case Si è arricchita Ha cominciato A stare un po' Più comoda E a quel punto Non era stato difficile Dare per scontato Ciò che Dio Aveva fatto Nel passato Concentrandoci Sul benessere Che sperimentavano Nel presente Proprio L'atteggiamento Circa il quale Il Signore Li aveva messi In guardia Prima Con Mosè Come dice In Deuteronomio 8.11.14 Che il Signore Li disse Già a Mosè Di badare bene Adesso Lo leggiamo Insieme Così che Lo ripetiamo Perché l'avevamo letto L'altra volta Insieme Però Siamo onesti Cale mamme Non corriamo Noi lo stesso rischio Eh? Di quella generazione Quindi stiamo Attenti A tutto quello che Eh Che Di come ci muoviamo Quello che noi facciamo Che la nostra Attenzione Sia nelle cose Che si le fa per noi Non che siamo distratti Da che sia Una realizzazione Di un lavoro Di una carriera Che sia la realizzazione Magari Non so Un progetto di Comprare una casa Un'azienda Non so Qualsiasi cosa Che possa distogliere Ovviamente Lo sguardo E portare distrazione Dall'insegnamento Ovviamente Verso i nostri figli Quindi tutto quello Che è accaduto Al popolo di Israele Al giorno d'oggi Il Signore ci mette In alletta Perché la Chiesa È riferita Spiritualmente Come il popolo di Israele Andiamo a leggere In Deuteronomio Capitolo 8 Versetto 11 Quando il Signore Mette in alletta Mosè Guardati dal dimenticare Il Signore Il Dio tuo Al punto Di non osservare I suoi comandamenti Le sue prescrizioni E le sue leggi Che oggi ti do Affinché non avvenga Dopo che avrai mangiato A sazietà Di aver costruito E abitato Delle belle case Dopo che avrai visto Il tuo bestiame grosso E munito Moltiplicarsi Accrescersi Il suo argento Il tuo oro E abbandonare ogni cosa Che il tuo cuore Si insupervisca E tu dimentichi Il Signore Il tuo Dio Che ti ha fatto uscire Dal paese d'Egitto Dalla casa della schiavitù Che ti ha condotto Attraverso questo grande E terribile deserto Pieno di serpenti Venenosi Di scorpioni Terrarida Senz'acqua Eccetera Eccetera Continuando Quindi Il Signore L'aveva avvertiti Bada bene A non porre I tuoi occhi Su tutto quello che Che si è aperto Una realizzazione Umana Ma investi Ma investi Oggi vogliamo dire Investi Nel regno Di Dio Qual è il regno Di Dio? Il regno di Dio Siamo noi Il regno di Dio Veramente sono i nostri figli La successione apostolica Il futuro Della Chiesa Non rischiamo Di farci prendere Dall'agio tipico Del nostro secolo Perdendo di vista Le nostre priorità Come discepoli di Cristo E quindi fallendo Nel trasmettere Anche ai nostri figli Le giuste priorità I nostri figli Stanno vedendo Stanno ascoltando La mano di Dio La bruna di Dio In nostra casa Stanno vedendo Magari Il servo di Dio Magari Con sua moglie In casa Le riunioni in casa Stanno vivendo Tutto questo Stanno vivendo Come vivevano Gli atti degli apostoli Perché Era Solera Maria Io penso che Era rivolto a tutti Nel senso Tutti vivevano Quello Da più piccole A più grandi Agli anziani Alle donne incinte A chiunque Quindi Ancora maggior di più Al giorno d'oggi Loro stanno vivendo Il nostro Quello che dovrebbe essere Il nostro stile apostolico Eh Care mamme Quindi Riflettiamo Veramente in quello I nostri figli Vedono in noi Vera riconoscenza Per ciò che Dio ha fatto Vedendo la sua Influenza In ogni aspetto Della nostra vita O vedono La nostra fede Che sembra Piuttosto qualcosa A cui ci dedichiamo Solo quando andiamo Al culto Cos'è che vedono Loro Una vita mondana Oppure Basata in distrazioni Tutta la settimana E poi la domenica Si va in chiesa Amen Alleluia O vedono Vedono veramente Al cento per cento Vivere la fede Del nostro signore I nostri figli Hanno la sensazione Che siamo più interessati Ai voti Che magari Che prendono a scuola Piuttosto Ad essere interessati Alla loro Relazione con Dio Quindi cos'è che Tu ti stai interessando In questo momento Che magari I tuoi figli Siano realizzati Quello Dicevamo l'altra volta Gloria a Dio Che abbiano Un buon rendimento Scolastico Che abbiano Un No Un buon apprendimento No Nello studio Nel veramente Arrivare magari A un titolo universitario Arrivare A prefissarsi Magari Un obiettivo Gloria a Dio Ma La loro Relazione Con Dio A noi Deve interessarci Di più Io posso avere Anche un figlio Super laureato Con 5 lauree Però perso nel mondo Che avere un figlio Magari Diplomato Che si mantiene Nelle vie del signore Infocato Con un Intensa relazione Con il signore Quindi E' quello che Magari volevo intendere Come Come significato E più o meno Come esempio Diamo loro La sensazione Di essere più Preoccupati Per la loro vita Lavorativa Che per la loro Scelta di fede Quando loro Magari si troveranno Davanti ad una scelta Che possa essere Magari Una scelta Spirituale Che possa essere Anche una scelta Umana Magari Di un Indirizzamento Verso una scuola Piuttosto che un'altra Nei loro progetti Magari Spiegando che I loro progetti Ovviamente Messi nelle mani Del signore Avranno sicuramente Un buon esito Fatto con fede Come dice la sua parola O che Loro faranno Scelte Emozionali Chiamiamole così Quindi Care mamme Tutto dipende Da noi E anche magari Siamo di esempio Quando dobbiamo Prendere una scelta Come famiglia Come coppia Di involucrare I nostri bambini Dicendo Preghiamo per questo Abbiamo fede In questo Il signore Magari ha mostrato Tante cose Bele Tante cose buone Per noi Perché non farà Pure questo Perché non ci risponderà Anche su questo Oppure Rivolgiamoci All'autorità Che il signore Ha posto Nelle nostre vite Finché loro Vedano Questo ordine Vedano Veramente Quella Dedizione Come dicevamo Ancora L'altra puntata Verso Dio Da parte nostra Come coppia Come famiglia Come casa E rivolgendosi Ovviamente Anche All'autorità Che si sono A posto Nelle nostre vite Una volta Tempo fa Avevo mandato Sentivo Di inviare Ho sentito Inviare Un messaggio Al broadcast Delle mamme Che abbiamo Della chiesa di Torino Sulla autorità Dicendo Se tu Non rispetti L'autorità Non ti rivolgi All'autorità Spirituale Che si rivolgono Nelle tue vite Se tu non hai Riguardo Se tu neanche De ne hai Tra virgolette Interessi Delle tue Attività Cosa stai Trasmettendo A tuoi figli Di certo Non gli stai Trasmettendo Il rispetto L'ubbidienza Verso l'autorità Ma ovviamente Vedranno Vedranno il contrario Vedranno Il peggio Quindi come ci comportiamo Noi Se onoriamo Magari il serbo Loro Sono predisposti A farlo Se dispreziamo Le autorità Loro Andranno a disprezzare Quindi tanti punti Mamme Che abbiamo Tanto Da imparare Quindi Che il Signore Ci dia saggezza In questo E l'ultima domanda Che avevamo finito L'altra volta Era Siamo più preoccupati Di vederli Sistemati Tra virgolette Piuttosto Che di vederli Onorare Servire Dio Tanti possono dire Basta che mio figlio Va a scuola Si laurea Ha un bel lavoro Si sposa Ha una bella famiglia E va bene Però noi dicevamo L'altra volta Il nostro ardore La nostra gioia È quella Di vederli Un giorno Servire il Signore Che sia Una moglie Di un pastore Che sia Un ministro Che sia Un evangelista I nostri figli Dichiariamo Come dicevamo L'altra volta In paletiera Veramente Per la vita Dei nostri figli È importante Sorella Maria Non so se Vuoi condividere Quello che dicevi Della preghiera Quando dichiaravi L'importanza Del dichiarare No? In preghiera Sì A me Sorella Stavo meditando Nella scrittura Dove il Signore Avvertì No? E a loro Quando sarebbero stati In quel luogo Con serpenti Scorpioni No? E E che veramente Ci stupisce Che dopo che hanno visto Tanti miracoli Tante cose Straordinarie Che i loro figli Non sapevano Nulla di questo Diciamo Si erano dimenticati E meditavano Quanto di più Adesso In questa generazione Sorella In questa generazione Veramente Nel mondo Siamo In un luogo Con serpenti Venenosi Con scorpioni E veramente Come dice il Signore Siamo pecore In mezzo A dei lupi E Lamentabilmente Se Noi Non discerniamo Nello spirito E ci lasciamo Trasportare Dalla nostra Diciamo Natura E ovviamente Quando tu vedi Persone nel mondo Che sembrano Carine Che sembrano Bravi Ti sembrano Ti puoi Fare anche Ingannare Da questa cosa E Dimenticarci Che in realtà Che c'è solo Due gruppi In questa vita O il figlio Di Dio Che cammina O lui Che cammina Nello spirito Che persevera Nella fede Oppure L'incredulo Che Biblicamente Parlando È un figlio Di satana E ha il suo Diciamo Intendimento Intenebrato C'è se si dice In italiano Intenebrato Comunque O si Si è amico O si è nemico Di Dio O si è figlio O si è O non si è figlio Allora Ovviamente Sì Noi Preghiamo E amiamo Alle persone Alle anime E dobbiamo Riscattarli Dal fuoco Dalla ignoranza Ma anche Dalla cecetà Spirituale Però non vuol dire Che andiamo A condividere E questo È molto importante Capirlo Perché quando Noi capiamo Questo come genitori I figli Seguono Sorella Io osservo Molto Ai genitori Giovani Specialmente Quelli della chiesa Quattorino Io osservo Osservo i bimbi Osservo i genitori E Io vedo Che veramente Ci vuole Non solo la convizione Ma Un tempo Un tempo Proprio dedicato Ci vuole Mettere uno Sforzo Ad ogni Dettaglio Per poter Crescere i figli Nel timore Nel timore del signore Nella reverenza Nell'amore del signore Io a volte Ti osservo Sorella Debora E veramente Ce la metti Tutta Sorella Io Non voglio Per carità Idol Tra nessuno Abbiamo tutti I sbagli Abbiamo Tutti Stiamo imparando Però io vedo Il tuo sforzo Sorella Debora E ci tengo a dirlo Vedo il tuo sforzo Soprattutto Insegnare La bambina Il rispetto All'autorità Ci tieni Che lei Ci saluti All'entrata All'uscita Se stiamo Diciamo Mangiando Da qualche posto E tu ci tieni Insegnare Lei Di offrire E da parte sua Magari Se vogliamo Mettiamo Che stiamo mangiando Il Burger King Che c'è Le patatine Le hamburger Tu ci tieni Dirle alla bambina Che io ti vedo Dal mio posto Tu mi dici All'orecchio Insegnare Chiedi al pastore La moglie Se vogliono Un po' Delle tue patatine E queste cose Sono dettagli Belle Perché I bambini Imparano Queste Questo bel timore Verso i fratelli Verso l'autorità Ci vogliono Ci vuole veramente Dedizione sorella Se siamo pigri Come genitore Non lo farai mai Non lo faremo mai Ci vuole molto Sforzo Dedizione Io Condividevo con la sorella Appunto Che Io appena convertita I primi anni No? Di convertita Mi ricordo Soprattutto Quando abbiamo avuto La rivelazione L'intendimento Della preghiera Prima dell'alba Una preghiera Proprio potente Di dichiarazione Non era Di supplica Non era No Dopo che Lodevamo il Signore Proprio di dichiarazione Non era supplica Non era Lamento Non era No Perché avevamo Fatto lo studio Di Di quale tipo Di preghiera Si fa Prima dell'alba Perché appunto L'autorità Che Dio ci dona Prima dell'uscita Del sole E c'è un bello studio Che parla su questo Si chiama L'ora nautica L'ora nautica È tradotta Già l'italiano Penso che ce l'abbiamo Nella nostra pagina È buono sempre Rifrescare Perché ha molte scritture Molta rivelazione E io mi ricordo Pregare Non solo come moglie Ma come mamma Soprattutto Io mi ricordo Dopo che lasciavo La nostra figlia Alla scuola Io andavo Sul letto di lei Sul cuscino Dichiaravo Pregavo Un G Un G Un G Un G Nel nome di Gesù Cristo E andavo poi Nell'armadio E toccavo Tutta la sua roba Le scarpe E no Tutto Un G Un G Pregavo Dichiaravo Protezione Benedizione E diciamo Sulla sua vita Diciaravo Dichiaravo E battagliavo E io ho visto Svilupparsi Mia figlia Veramente Una ragazza Bella di Dio, però che succede? Che con gli anni poi io mi sono, come si dice, l'ho preso tutto per scontato, nel senso che noi servivamo Dio, lei anche aveva la sua propria relazione con Dio perché io che vivevo con lei crescendo, io vedevo che mia figlia non è che faceva le cose perché noi lo facevamo, proprio lei, Dio gli parlava e non solo, lei aveva il suo tempo di preghiera all'alba e poi lei ci ha detto quando è arrivata in Italia, lei pregava al Signore di avere una camera da letto col balcone che tassi verso Gerusalemme, verso all'est, dove sorge il sole e io non lo sapevo questo, ma questo era nel suo desiderio, rio di cuore che poi lei ha condiviso con noi, perché l'ha condiviso? Perché quando il Signore ci ha approvvisto questo appartamento, la sua camera da letto ha il balcone verso l'est e quando lei entrò a questa camera da letto e con questo balcone che dà verso l'est, che tra l'altro, gloria a Dio, noi abbiamo dei tramonti e del, come si chiama quando va giù il calare, del calare del sole e dei tramonti spettacolari, bellissimo per la preghiera, lei appena ha visto questo, wow, dice io stavo pregando per questo, stavo desiderando questo e le sue mattonelle sono la Deborah, sai che io mi sono resa conto che hanno la stella di Davide, la forma delle mattonelle della stanza di mia figlia, la forma della stella di Davide e comunque, non so, è veramente speciale, tanti dettagli, il punto è che lei aveva la sua propria relazione, pregava al mattino, poi mi ricordo eravamo appena arrivati, sai, uno inizia a ambientarsi e comincia a abituarti ad andare magari presto al mercato a comprare della roba da mangiare o delle necessità, io ricordo che lei dopo la sua preghiera prendeva i suoi studi e passava lì a studiare, a scrivere, fino a che non finiva non voleva uscire, a volte si faceva a mezzogiorno e a mezzogiorno era l'ora di mangiare e lei già era pronta per uscire. Cosa voglio dire con questo? Che poi io, ovviamente vedendo la sua propria relazione con il Signore, vedendo il suo sviluppo spirituale, uno tipo si abitua, nel senso come dire, ok, siamo salvati, la vedo bene a mia figlia, siamo nelle mani del Signore e dai per scontato tante cose. E dico questo perché come testimonianza? Perché io non è che ho lasciato di pregare per mia figlia, perché uno prega sempre, ce l'ha sempre nelle menti, nel cuore, sempre che preghi per loro, ringrazio per loro, per tuo marito, per la famiglia, per i fratelli, però io per un periodo mi sono distratta e ho smesso di fare quel tipo di preghiera che io facevo per tanti anni di battaglia, di battaglia prima dell'alba. non lo stavo facendo più come lo facevo. E anche perché vivendo qui in appartamenti ci avevano detto che si sentiva tutto, di non disturbare, allora tante cose, sai, noi abituati a una billetta, sai, di una bocca, quello che vuole, beh, appunto non vuol dire che devi urlare quando battagli, però sai, comunque si sente a quell'ora, sì. Il punto è che tra una cosa e l'altra, che appena arrivati qua di là, tra una cosa e l'altra, anche situazioni che poi iniziarono ad accadere, delle prove, mi sono distratta e ho dato per scontato e non battagliavo più. Allora io gli raccontavo la sorella Deborah, dico, le lotte, i bambini, anche se crescono nella fede, hanno un buon esempio, gloria a Dio, i genitori possono insegnare, però le lotte comunque loro, le esperienze loro le avranno. Adesso è importante che i genitori istruiscano cosa dice la parola, è importante che non permettano certe cose, perché sì, è vero, ognuno deve avere la sua esperienza, però non per questo tu vai a permettere certe cose, o con i soldi tu comprargli certe cose, che sai che sono un bambino al Signore, che sai che non convengono, che sai che vanno incontrata. Allora, mantenersi fermi con amore e con saggezza, ma soprattutto, soprattutto, a parte la saggezza, a parte l'esempio, a parte le decisioni, soprattutto, gli diceva la sorella Deborah, che la cosa più importante è battagliare, battagliare tutte le mattine per i vostri figli, dovete battagliare nel nome di Gesù Cristo, coprirli col sangue di Cristo, dichiarare nelle loro vite e combattere, combattere in preghiera e non smettere mai di farlo, non importa quanto bravi, quanto belli che li viedete nella fede, che crescono, no, questo non tenere mai per scontato, non vi fate prendere di sorpresa dal nemico, perché come dice la parola, se siete fermi, guardate di non cadere, nel senso, siamo sempre in questa carne, siamo deboli e ovviamente le nostre debolezze il Signore ci fa forti, ma appunto ci dà le armi per combattere e per poter essere forti in queste debolezze, e questo è quello che condividevo con la sorella Deborah, veramente siamo in una generazione malvagia, siamo in una generazione perversa, il Signore sta per arrivare, mi raccontava la sorella della scuola, già dall'asilo nido, si sente parlare ai bimbi di sesso, si sente parlare ai bimbi di termini che noi neanche immaginavamo nei nostri tempi, eppure noi non è che siamo dell'epoca chissà che cosa, però per dirti adesso stiamo in una generazione proprio molto particolare, per cui dobbiamo essere ancora più fermi, ancora più esigenti, ma soprattutto ancora più stagi, per combattere anche in prega con tutte queste cose, sorella è questo che tu stai condividendo con le mamme, io vi incoraggio mamme veramente di riascoltare questi programmi varie volte, di andare alle scritture, di meditare e chiedere a Dio, perché questo è un tesoro, io ti ringrazio sorella Deborah veramente per questi insegnamenti che tu condividi, perché so il tuo peso per i bambini, ma anche per il tuo sforzo come mamma, lo vedo tu, il tuo fratello, tuo marito, fate soprattutto state accogliendo i consigli che vi stiamo dando e lo state applicando, mano a mano che si può, ma non mano che si, come posso spiegare, fate lo sforzo, perlomeno lo vedo io, lo vedo a me, grazie sorella, grazie per questa tua testimonianza nel condividere tutto questo e vogliamo continuare con la seconda parte, questo è stato per legare tra la scorsa puntata e quella nuova di adesso della seconda parte del buon esempio, continuando, dice questo studio come accadde anche, come accadde la generazione di Giosuè, saranno le nostre priorità nella vita ad influenzare i nostri figli più dei nostri discorsetti religiosi, normalmente come si usa a dire il frutto non cade mai molto lontano dall'albero, così purtroppo molti figli ripercorreranno proprio la stessa strada tracciata dai propri genitori, i figli di persone che hanno avuto problemi con la legge spesso finiscono per commettere gli stessi errori, i figli di genitori che hanno avuto grossi problemi matrimoniali di frequente finiscono col manifestare tali problemi anche nel proprio matrimonio, gli esempi negativi possono influenzare molto un figlio tuttavia può essere incoraggiante considerare che Dio nella sua grazia può ottenere frutti imperati anche lì dove non ci sono buoni esempi, è incoraggianti a questo proposito la storia biblica di Giosia che ha avuto due pessimi esempi nel nonno Manasse e nel padre Amon tuttavia quando era ancora ragazzo egli cominciò a cercare Dio questo è in secondo cronache capitolo 34 versetto 3 che lo leggiamo che bello, nella prima parte avevamo avuto un bel esempio a Timote e della nonna invece qui a Giosia un brutto esempio non solo del padre ma anche del nonno solo che non riesco a prendere hai bisogno sorella aiuto? si ok, quale sarebbe? seconda cronica 34 versetto ok, mentre la sorella lo cerca io continuo purtroppo a volte è vero anche il contrario un buon esempio non è sufficiente a impedire che un figlio percora la strada della ribellione ad esempio Salum, Eliakim e Sedechia, figli di Giosia non seguirono le buone orme del padre ma furono tutti ribelli al Signore allora Giosia aveva avuto un pessimo esempio dal padre Amon e dal nonno Manasse i figli di Giosia, Salum, Eliakim e Sedechia cosa succede? non seguono il buon esempio di Giosia ma furono tutti ribelli al Signore la sorella l'ha trovato secondo cronache 34 versetto 3 nell'ottavo anno del suo regno quando era ancora un ragazzo cominciò a cercare il dio di Davide, suo padre e nel dodicesimo anno cominciò a purificare Giuda e Gerusalemme dagli alti luoghi dagli Asherim, dalle immagini scolpite e dalle immagini di metallo fuso amè, grazie sorella questo cosa vuol dire? che abbiamo detto, ripetiamo il nonno Manasse e il padre Amon di Giosia non erano stati di buon esempio per lui però lui già da ragazzo dice la parola che inizia a servire Dio inizia, incominciò a cercare Dio purtroppo abbiamo detto che a volte è anche il contrario un buon esempio non è sufficiente a impedire che un figlio percora la strada della ribellione i figli di Giosia, Salum, ripeto, Eliakim e Sedechia, figli di Giosia non seguirono le buone orme del loro padre di Giosia ma furono tutti ribelli al Signore questo però non significa che non vale la pena lasciare un buon esempio anzi, come genitori cristiani siamo ancora più stimolati a fare tutto il possibile per i nostri figli a lasciare un buon esempio potrebbe essere molto triste osservare dei figli che si allontanano da Dio nonostante il nostro esempio di fede ma sarebbe ancora più triste essere coscienti di aver contribuito a tale allontanamento con un cattivo esempio quindi è brutto vedere ovviamente dei figli che si allontanano dopo magari il tuo perseverare nella fede stare lì, però è ancora più brutto vedere allontanare quando noi contribuiamo al brutto esempio a fare allontanare perché se uno per esempio come padri perlomeno se tu stai servendo a Dio e a casa hai dato un buon esempio loro non hanno visto mai il brutto esempio nella fede tu perlomeno dici, beh Signore io ho fatto il più che potevo e nelle tue mani, però come dici tu l'immagine di se uno sarebbe stato, wow, quello sarebbe stato orribile quindi questi principi non sono validi solo per chi ha figli infatti se siamo dei discepoli di Cristo maturi abbiamo comunque la responsabilità di essere di esempio alle generazioni più giovani Paolo scrisse a Tito, esorta ugualmente il giovane ad essere saggi presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone mostrando nell'insegnamento integrità, dignità, linguaggio sano, irreprensibile perché l'avversario resti confuso non avendo nulla di male da dire contro di noi a me, quindi anche per chi dice io non ho figli oppure questo argomento non mi riguarda, no comunque magari gli ansani della sua chiesa noi abbiamo un grande esempio come la sorella Gianetta di esortare i giovani, di essere di esempio come dice la sua parola di integrità, dignità, un linguaggio sano, irreprensibile gloria a Dio insegnare non solo con le parole ma attraverso l'esempio è proprio la caratteristica di un vero discepolato cristiano infatti la parola discepolo significa uno che impara, no ma il discepolo come era inteso a tempo di Gesù imparava stando a stretto contatto con il proprio maestro assorbendone le parole ma anche l'esempio di vita Gesù fece proprio così con i propri discepoli come riassume la famosa frase che disse dopo aver lavato i loro piedi infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come ho fatto io a me questo si trova in Giovanni capitolo 13 versetto 15 se pensiamo alla chiesa a me come ad una famiglia più allargata ci rendiamo conto che proprio come in famiglia non saranno le parole e i buoni consigli a fare la differenza ma la pratica cristiana che i giovani vedranno in coloro che hanno più esperienza nella fede a volte io come varie volte testimoniato sendo una famiglia di Cristo tante volte mi dava fastidio quando qualcuno magari riprendeva mia figlia perché magari io ci tenevo come tengo adesso ovviamente al suo comportamento però magari quando la sorella le richiamava per il loro bene ovviamente io mi nascrivo e io ho detto signore tu devi togliermi questa cosa perché ovviamente se noi siamo una famiglia in Cristo i nostri bambini devono ricevere anche un insegnamento una riprensione da parte di un fratello di una sorella come famiglia di Cristo come una famiglia allargata come diceva questo studio anche come chiesa perché quando non so chi mai ha notato quando vengono presentati i bambini i pastori dicono cosa molto importante sì la responsabilità è dei genitori è della famiglia ma anche noi come chiesa nell'insegnamento verso questi bambini questi piccoli fanciulli presentati al Signore e quindi ci stiamo davvero preoccupando di formare la prossima generazione di uomini e donne trasmettendo loro un amore vero per il Signore o stiamo trasmettendo solo una religione che non intacca il nostro stile di vita? a me stile apostolico veramente la nostra vita deve essere stile apostolico 24 ore su 24 7 giorni su 7 364 giorni all'anno quindi sempre 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 in un mondo sempre più lontano da Dio sempre più lanciato verso la sua fine abbiamo una grande responsabilità verso la generazione che viene dopo di noi il più bel regalo che possiamo fare al nostro figlio o a un credente più giovane è dagli un buon esempio Amen cari mamme gloria a Dio per questo io prego al Signore che questo studio veramente possa portarci alla riflessione della nostra condizionità quello che mi rendo conto è che siamo troppo distratti dalle cose che ci circondano troppo distratti magari che sia nella tecnologia che sia come dicevamo prima nella propria realizzazione come famiglia, come azienda, come impresa e tralasciammo molto molto la nostra vita spirituale il nostro camminare con il Signore il nostro esempio per i nostri figli e dicevo prima la sorella nella scuola, nella classe di mia figlia c'è un bambino molto particolare questo bambino ovviamente la colpa non sono dei bambini perché ti verrebbe da dire no magari quando ascolti delle cose che te la vorresti prendere col bambino oppure che dicono delle cose ovviamente però dicono delle cose che loro hanno ascoltato dicono delle cose che loro hanno imparato hanno osservato dai propri genitori allora guarda il modo di parlare di comportarsi di un bambino e potrai vedere il risultato di quello che vedono dai genitori guarda il comportamento di un genitore e capirai come verranno i suoi figli per esempio se c'è un papà una mamma magari sempre con il cellulare faccio un esempio magari il bambino ti cerca e tu neanche te ne rendi conto cioè la cosa che dobbiamo capire è che la nostra casa deve essere il primo piano di insegnamento quando guarda una mamma se tu vedi per esempio una mamma organizzata nel senso magari apri i suoi cassetti oppure vai in cucina il modo magari in cui si organizza le cose quello sarà un buon esempio e impattante ovviamente anche per i bambini per i suoi figli vai in una casa magari dove c'è magari disordine e dove c'è i bambini cresceranno nel disordine se tu magari invece tieni ai loro spazi magari che hanno un proprio spazio per giocare hanno un proprio spazio per riservare il proprio letto magari per dormire non so qualsiasi regoletta qualsiasi regola di casa per vivere al meglio un ambiente familiare è normale che se io con un bambino piccolo lo lascio per esempio vivere nel disordine lui continuerà a vivere nel disordine per lui sarà normale invece se da piccolini noi con il nostro buon esempio magari essere ordinati una piccola regoletta di raccogliere tutti i giochini di non lanciarli ma di prenderne cura ovviamente di stare lì a romperli a lanciarli in aria ma di prendere cura non solo dei propri non solo dei propri eliminando l'egoismo non solo dei propri ma soprattutto quello degli altri del proprio prossimo quindi è normale che poi ovviamente se mio figlio è abituato a casa a raccogliere i giochini è normale ma giù da giù di più farlo a casa magari di una sorella di un fratello di essere di buon esempio magari quelle più grandi i bimbi più grandi essere di esempio per i bimbi più piccoli a volte io mi rammarico nel signore che dico mamma mia quelli più grandi a volte e dobbiamo stare indietro peggio di quelli più piccolini però quello cosa dipende? dipende la nostra preghiera la nostra preghiera come mamma come diceva la sorella battagliare in preghiera essere in eccellenza nel nostro parlare con parole di vita di fede di amore e non stare lì veramente ovviamente come dicevamo l'altra volta se un bambino ascolta che la mamma e papà parlano male dell'autorità che la mamma e papà parlano male di un fratello di una sorella andranno a fare lo stesso se loro vivono nella critica impareranno a criticare se loro vivono nell'amore impareranno ad amare se loro vivono nel buon esempio impareranno altresì nel buon esempio quindi sorella Maria non so se vuoi aggiungere altro a me si volevo tu hai nominato una parola chiave non l'eccellenza io uno può applicare le cose giornaliere come per esempio i compiti della scuola per insegnare un principio biblico io per esempio a Mina non gli danno i compiti da lunedì a venerdì ma glielo danno per il weekend allora a volte viene il weekend viene a casa nostra e ho avuto due volte l'opportunità di fare i compiti con lei e a lei piace fare i compiti a parte che i compiti al livello dove lei c'è ci sono i giochi i colori si colora molto tutto qua si impara colorando si impara facendo diciamo dei giochi di ordine di sequenza allora lei stava colorando lei è brava a colorare a disegnare ma già sin da piccola però ultimamente essendo grande a volte la vedo che colora però colora non colora con eccellenza come colorava prima magari per fare in fretta magari non lo so per chiamare l'attenzione non lo so allora stava colorando delle cose per la scuola e gli ho detto amore allora lì ho approfittato per insegnarli la scrittura che parla che tutto ciò che facciamo dobbiamo farlo come per il Signore come che se noi lo facciamo per il Signore al Signore si dà il meglio si dà l'eccellente magari tu usi la parola eccellenza non sanno cosa vuol dire eccellenza però le ho spiegato che eccellenza è il meglio almeno il meglio allora io gli ho fatto un esempio pratico dico amore se tu dovresti fare questo dare questo a Gesù tu glielo daresti pensi che a lui piacerebbe glielo daresti allora lei ci ha pensato un po' dico ecco allora questo vuol dire quella scrittura che ogni cosa che tu fai nella scuola nella tua vita ogni cosa tu la devi fare non per la maestra non per nonna non per mamma non per te tu la devi fare come se fosse per Gesù come che Gesù va a vedere questa cosa che tu stai facendo e tu devi farla come per lui come che se per lui per vedere se lui sarà contento o no di quello che tu hai fatto come dire ah le ho dato questa sorella questa me l'ha dato il signore mentre le parlavo mi ha dato questo io le ho detto signore ti ha donato il regalo il dono di tu poter disegnare colorare di poter fare certe cose allora tu come puoi ringraziarlo a lui a lui usando questo che lui ti ha dato per lui no allora se lui ti ha donato questo saper colorare per esempio qual è il modo migliore che tu puoi dire grazie Gesù per avermi dato questo regalo questo dono di saper colorare grazie ti concedo questo disegno per metterlo in atto questo disegno per te lo metto davanti a te ringraziandoti che tu mi hai dato questo dono di colorare e che tu mi hai provvisto i colori mi hai provvisto i pennarelli i quaderni grazie Gesù qua tieni questo è il mio regalo per te e gli fai un bel regalo a Gesù per il regalo che lui ti ha dato non so se mi spieghi il punto è che io ho preso quei minuti no magari nella carne io come mamma prima avrei sai uno dice ma no ma come sai fare meglio no senza offendere perché io non sono stata non per niente non che quello mi fa più buona però non sono stata mai di quelle mamma sai che magari dicono i figli stupido no niente di quelle cose però magari mi sarei arraffiata dai anche se dire la verità sorella io come mamma non ho avuto mai l'esperienza di fare i compiti come a figlia perché lei li faceva sola sempre è stata così ma non voleva neanche essere aiutata non faceva sola le piaceva non ho avuto mai quella battaglia per dirti quella lotta però però io noto che veramente molte mamme si esauriscono perché magari il bambino lo fa anche apposta per vedere che tu ti arrabbi perché mani l'attenzione tante cose poi con l'età però che bello quando uno può approfittare ogni cosa ogni attività sia un giorno sia la scuola per insegnare un principio biblico e io lì quando io con amore con pazienza le ho spiegato questa cosa che lei tutto quello che faceva doveva farla per Gesù sorella io ho dato la mia esposizione a lei le ho spiegato e poi me ne sono andata in cucina sorella quando sono ritornata l'aveva rifatto ma in un modo è stata incentivata questa cosa lei l'ha toccata l'ha impattata questa cosa e allora quando io l'ho visto ho detto oh che brava adesso si che Gesù sarà contento ho visto che lo puoi fare bene diciamo approfittare ogni cosa insegnare questo dell'eccellenza perché fanno ciò che fanno e perché non fanno ciò che non fanno e penso che c'è tanto da imparare da parlare e non so quanto tempo è trascorso sorella però gloria a Dio è stato è stato bellissimo sorella veramente io mi edifico ogni volta e imparo di più ogni volta amene grazie sorella Maria grazie per la tua testimonianza grazie per il tuo appoggio e grazie soprattutto per le tue preghiere perché sappiamo che come una grande mamma una grande nonna veramente prega per tutti i bambini della chiesa veramente ci prego come se fossero i nostri figlioletti che bello veramente questo grande amore questo grande affetto questo amore in mezzo che ci unisce come fratellanza come figli di Dio perché siamo quando noi ci siamo tutti fratelli e sorelle è così hai il peso magari di un altro hai il peso di un bambino hai no soffrire con chi soffre e gioire con chi gioisce quindi io ringrazio veramente al Signore e rendo grazie a Lui per le vostre vite care mamme e prego per chi ha una testimonianza o qualcosa di condividere può condividercelo veramente può inviarmi un audio può inviarmi un messaggino al 392 32 95 369 lo condivideremo con le altre mamme per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo a mezzo della Maria solo un'ultima cosa sorella e se qualche nonna sta ascoltando sappiate nonni che siamo importanti siamo nominati in molti capitoli della Bibbia sia del vecchio sia del Buonestamento sia per il bene sia per il male io come dico al Signore se io posso impattare in qualche modo nel tempo che mi rimane anche mio marito il pastore che rimane se possiamo impattare in qualche modo seminare in qualche modo nella vita della nostra nipote questo amore per il Signore questo timore per il Signore io dico è valsa la pena tutto veramente questo voglio fare e sogno e visiono alla mia nipote insieme ai suoi fratellini e sorellini io sempre la incoraggio e dico amore i tuoi fratellini le tue sorelline quando sarai grande canterete una che canterà l'altra che suonerà il piano l'altra la guitarra è sempre la motivo a questa cosa ai bambini bisogna motivarli farli envisionare servire al Signore tutti come fratellini con amore con gioia adesso crescendo Amina magari io dico perché lei mi dice vorrei un fratellino una sorellina allora io dico sì bello però ricordo che ne hai tanti fratellini e sorellina allora lei dice no no tanti dico sì quelli della chiesa ah sì sì che lei più da piccola mi ricordo una volta non so che bebè era piccolo ah sì Glorietta era piccolina e mi ricordo che il fratellino Michele sai quando appena nati i fratellini più grandi sono gelosi allora mi ricordo che Glorietta piccolina era bebé e fratellino Michele era lì accanto con il postaggino e allora Amina si avvicinò allora il fratellino per non farla svegliare a Gloria gli ha detto Amina no no non toccare a mia sorellina non mi ricordo allora mi ha detto è anche mia sorellina è anche mia la sorellina e lì mi ha impattata perché noi ci dimentichiamo che veramente siamo una famiglia no e mi ha fatto gioia sentire questo lo sentite varie volte ovviamente poi crescono però tocca a noi mantenere questa questo amore questo concetto nelle loro menti perché ovviamente crescono e capiscono già cominciano anche loro a imparare altre cose a ragionare tante altre cose comunque tocca a noi questa responsabilità anche partecipandoli facendoli intesi in tutto quello che è la vita della chiesa parlavo con una sorella della sua bambina di come sta iniziando ovviamente più tra virgolette frequentando l'ambiente di chiesa la fratellanza è normale che i bambini iniziano a crescere in un altro ambiente in un ambiente sano e che bello poterli vedere veramente crescere così in amore veramente gli uni per gli altri magari pregare gli uni per gli altri sapendo che magari la sognina Rebecca adesso sta un pochino male preghiamo per lei che te la benedica dobbiamo fare che i bambini chiamino la sognina Esther l'ha scritta la chiamata gli ha potuto mandare un cuoricino si mandavano dei messaggini veramente pregando nel nome di Gesù quindi vi esortiamo a farlo questo è il nostro stile apostolico un saluto dalla sorella Deborah e dalla sorella Maria amè pace di Cristo amè per fare la tua vita grazie a tutti